Io credo che tu ci debba presentare, hai preparato due splendidi brani che sono stupendi. Il primo, e diamo anche una spiegazione. Diciamo, cantiamo Sole Mio per il periodo freddo che stiamo vivendo a livello mondiale. Esatto. E che è stato scritto, la prima pubblicazione è stata nel 1898, quindi la cantiamo. Le chiacchiere stanno a zero, vogliamo sentirti. Cantiamo, un applauso a Paolo! Oh sole mio, ci vuole spuntare il sole per illuminarci a tutti noi, eh? Che bella cosa, dai giornati sole, l'aria serena rò, penata in festa. Che la fresca pareggia una festa. Che bella cosa, dai giornati sole. 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 censura, dai giornati sole. Oh sole mio, sto in fronte a te. Sto in fronte a te Grazie Grazie Tutti aiutate Di un bello in te Oh sole mio Sto in fronte a te Oh sole Oh sole mio Sto in fronte a te Sto in fronte a te Bravo! Oh sole, oh sole mio Sto in fronte a te Tutti aiutate a te Grazie Complimenti Grazie Complimenti Complimenti Grazie Grazie Accomodatevi ragazze Grande Grande in tutti i sensi il nostro E allora Nel senso che lei è grande Noi non ti mandiamo via No? Adesso ci devi presentare